Un vero e proprio arsenale della Camorra è stato scoperto dagli agenti del commissariato di polizia, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino. Il blitz è scattato in un parco, già nel mirino della DDA per lottizzazione abusiva, parco dove risiedono alcuni presunti affiliati al clan Mallardo. In una Ford Fiesta, auto rapinata Giuliano a dicembre, c'erano tre pistole calibro 9 Parabellum, un fiscile a canna e mozze, guanti lattice, tre caricatori e 50 proietti dello stesso calibro. Una delle pistole era stata rubata ad un poliziotto di Pozzuoli nel 2012. Le armi erano modificate, potevano anche montare i silenziatori. Il fucile invece aveva tre colpi in canna e uno era potenziato, avrebbe dilaniato la vittima. Sotto chiave anche una Volkswagen Tiguan rapinata a gennaio a Napoli. Le armi erano pronte all'uso e con i colpi in canna, per gli inquilenti, quasi probabilmente sarebbe stato sventato un omicidio. Le indagini, vista la zona del ritrovamento, fanno pensare che le armi erano in uso ad affiliati al clan Mallardo, e questo potrebbe significare che nella cosca potrebbe essere in atto una scissione, viste le frizioni tra i vari gruppi. Quello che preoccupa gli inquirenti è la similitudine delle armi, in particolare il fucile con il proiettile potenziato. Nella faida degli anni 90 furono decine gli omicidi commessi nello stesso modo, una sorta di macabra firma da chi aveva sentenziato i delitti. Grazie a tutti.